Buonasera a tutti amici di Rubrica Rosso Nera, ben ritrovati sul nostro canale, ultimo video della giornata, ultimo video di oggi lunedì 14 marzo 2022 Notizie da Milanello, notizie dal campo, perché Stefano Pioli oggi ha condotto allenamento sotto l'occhio vigile di due grandi leggende del calcio Una leggenda rosso nera e un grande campione che mi sarebbe piaciuto vedere con la maglia rosso nera Da un lato Clarence Edorf e dall'altro Miroslav Klose, attaccante tedesco che ha conosciuto Stefano Pioli alla Lazio E quindi il nostro gruppo si è allenato sotto gli occhi di questi due grandi campioni che hanno speso bellissime parole per il lavoro di Stefano Pioli, per la squadra Augurandogli il meglio e un'ottima chiusura di campionato di stagione 21-22 Buone notizie anche dal reparto Infortuni, dalla zona Infortuni che ci ha assediato tanto questa stagione ma che ha fortificato l'animo del nostro gruppo, della nostra squadra Marco Lazetich ha finito il periodo di lavoro personalizzato e quindi ha lavorato e svolto totalmente in allenamento in gruppo Mentre Bakayoko, altro giocatore che aveva dei problemi fisici, sta continuando il lavoro personalizzato e nei prossimi giorni potrà riprendere il lavoro collettivo, il lavoro di squadra A proposito di Marco Lazetich, che c'è tanta curiosità ma c'è anche tanta perplessità nei confronti di questo ragazzo Vi dico dopo cosa ho scoperto, cosa mi è arrivato da Milanello A Milanello si sta già provando la formazione in vista del Cagliari, della delicata partita, della delicata trasferta contro i Sardi Sembrerebbe che parta Magnon, a destra Calabria, a sinistra torna Teo Hernandez Dopo la scuolifica, la parte saltata a causa della scuolifica contro l'Empoli Quindi Calabria a destra, Teo Hernandez a sinistra Con Calulutomori confermatissimi al centro della difesa Con Tonali Ben Nasser confermatissimi in mediana Con Messias, che sì e Rafaelao, trequartisti E mi dicono, potrebbe esserci la sorpresa Zlatan Ibrahimovic dal primo minuto E darebbe un attimino di riposo a Olivier Giroud Ma che sicuramente entrerà, anche perché Zlatan dopo un mese e mezzo in attività Non ha i 90 minuti nelle gambe Quindi potrebbe esserci la sorpresa Zlatan dal primo minuto Alchivate le notizie di campo C'è un'altra notizia importante che riguarda il Milan Che riguarda i dirigenti dell'area tecnica rossoniera Paolo Maldini e Ricchi Massara Che dopo ottimo lavoro svolto La proprietà li ha contattati Notizia di oggi, esclusiva Li ha contattati e sta parlando con loro per il rinnovo Il rinnovo che sarà una formalità I dirigenti, Paolo Maldini penso che sia ovvio Ma anche Ricchi Massara Vogliono continuare a lavorare per il Milan Si trovano molto bene Hanno creato un team di lavoro con Ivan Gazzidis E in generale il management rossoniero davvero idilliaco Si trovano super bene E quindi si rinnoverà il contratto anche con i dirigenti Quindi sia da un lato a livello strategico L'area tecnica rossoniera sta portando avanti i rinnovi Di giocatori chiave come Raffaele A Come Ben Nassere, come Calulu Anche gli stessi dirigenti Anche Paolo Maldini e Ricchi Massara Stanno trattando il rinnovo con il Milan Quindi ottima, ottima notizia Altra notizia e chiudiamo Mi avete chiesto in tantissimi Cosa ne pensi dell'episodio del Torino Ieri che non è stato concesso il rigore Che poteva in qualche modo portare il Milan a avere Sei punti in più rispetto all'Inter Io dico che, e l'ho sempre pensato questo Poi bisogna essere lucidi nelle analisi Bisogna in qualche modo anche non farsi prendere dal momento Io penso che in un campionato ci siano episodi favorevoli Episodi non favorevoli Ma alla fine tutto si bilancia Basti pensare che il Milan hanno annullato un gol Contro lo Spezia Contro la Selerin Tanto è stata delle polemiche Però molti potevano dire Non hanno concesso il rigore contro il Milan Quando c'è stato il possibile fallo di Tomorica L'unusosi man Può essere dato il rigore Può anche non essere dato C'è stata la polemica su Ben Nasser Contro il Napoli Ci sono tante polemiche Il VAR dovrebbe in qualche modo Probabilmente limitare queste Perché ci sta Fare un errore umano per l'albitro Perché magari non vedo Interpreta male il gioco Ma chi vede Chi rivede Non dovrebbe commettere questo errore Quindi la mia perplessità Il VAR c'è Rimane Però penso che alla fine Gli episodi si bilancino Alla fine E quando una squadra vince Il cavolo Scudetto lo vince Meritatamente Si è parlato tanti anni Di Juventus Che arrivava prima E però aveva la squadra più forte Con la gestione di Conte Allegri Era molto più forte Rispetto alle altre L'Inter l'anno scorso ha vinto Era una squadra davvero Molto difficile da affrontare Quest'anno il camminato È un pochino più equilibrato Io penso però Che alla fine Alla lunga Chi meriti davvero Vinca A prescindere dagli errori Albitralli Che secondo me In buona fede Voglio pensarla così Alla fine Si compensano sempre Fatemi sapere Amici Di Rubrica Rosso Nera Cosa ne pensate E come sempre Se vi è piaciuto questo video Gli devi mettere mi piace Di condividerlo Iscrivetevi al canale YouTube Di Rubrica Rosso Nera